È vero che i master non servono? Io sono iscritto all'Università Telematica Internazionale Uninet1 e attualmente frequento un master in giornalismo e comunicazione grossimediale. Credo che sia importante perché permettono di arricchire il proprio curriculum professionale e permettono anche di cambiare prospettiva sul mondo del lavoro e non solo. Mi chiamo Luca, ho 33 anni e nel 2018 ho intrapreso questo percorso con Uninet1 ultimando una laurea in Scienze della Comunicazione. Attualmente lavoro nel settore radiodivisivo in qualità di specialista della comunicazione divisiva quindi un settore in perenne cambiamento dove diventa importante essere aggiornato con l'avanzare delle nuove tecnologie. Da qui l'interesse per questo master super attinente al mio ambito lavorativo un master che ovviamente mi ha aperto ad una prospettiva differente sul mondo del lavoro e non solo, mi permette di affrontare le nuove sfide con molta più sicurezza e mi ha dato una prospettiva diversa anche sulle varie opportunità che potrei intraprendere nel corso degli anni. Una cosa che apprezzo dell'Università Telematica è la possibilità di poter conciliare lo studio con il lavoro. Basti pensare per esempio ad un ricordo che mi è rimasto impresso, quella della pandemia. Mentre la gran parte delle attività erano in completo sale in tutti i settori, compresa la formazione, io sono riuscito tranquillamente a gestire il lavoro. Infatti con UniNet1, col metodo di studio che era già ben consolidato prima dell'emergenza sanitaria, sono riuscito a seguire le lezioni non soltanto online ma anche offline. Per esempio il master mi ha colpito per quanto riguarda il feedback immediato che ho ricevuto sul settore, sul campo da parte di coloro che sono gli esperti di comunicazione, non soltanto a livello nazionale ma internazionale. Questa è l'esperienza di Luca, studente all'Università Telematica Internazionale UniNet1. Se anche tu vuoi avere libertà nelle tue scelte, senza pressioni, proprio come Luca, e vuoi seguire un corso di laurea in beni culturali, economia e diritto, ingegneria, psicologia o scienze della comunicazione, UniNet1 è l'università fatta su misura per te.